bentornati amici di my football jersey rivediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan trovate qui in alto la recensione questa è la seconda del portogallo non ancora ufficiale in edizione player e e e e e e e e e la maglia mi era piaciuta e ho deciso di riprendere tra l'altro questa volta l'ho personalizzata con il numero e il nome di ronaldo quindi ancora secondo me più belle e affascinante ottima qualità il tessuto del nike in versione player e veramente bella questo disegno sull'alto pro e poi comunque come ho detto è la maglia di ronaldo il costo l'avete visto ottimi tempi di spedizione buonissima qualità decidete voi cosa fare però secondo me è un vero mi raccomando nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se volete vedere altre recensioni per oggi è tutto alla prossima